ULTRA 1 ULTRA 1 ULTRA 1 ULTRA 1 ULTRA 1 ULTRA 2 ULTRA 3 ULTRA 3 ULTRA 2 ULTRA 2 ULTRA 1, sembra ci siano pochi nemici nell'area. Mi muovo! Vedo una lunga panta nemica! ULTRA 1, minaccia nemica moderata nell'area. Attenzione ULTRA 1, la minaccia nemica è elevata e preparatevi allo scontro. Attenzione ULTRA 1, avete un compagno a terra. Siete sotto fuoco nemico. Mi servono colpi di piccolo calibro. Corre ULTRA 1!